Collaborare per accelerare l'approvazione dei progetti e sbloccare gli investimenti per lo sviluppo del sistema aviario a servizio dei cittadini delle imprese toscane. Questo è il tema al centro dell'incontro avvenuto tra il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, dove è stata anche confermata la realizzazione della terza corsia della 11 Firenze Pistoia. Le autostrade hanno rinnovato tutto il loro impegno e nell'incontro molto cordiale ho avuto modo di vedere che davvero c'è la prospettiva di arrivare presto, appena il livello di governo si sarà ricomposto, vi sarà un ministro, l'approvazione, gli ultimi tratti di quello che potrà essere l'inizio del primo lotto che da Peretola comporta anche la rigenerazione di quello che è l'ingresso dell'autostrada in città. Autostrade per l'Italia ha presentato le linee strategiche del nuovo piano industriale, illustrato già nello stato degli investimenti in Toscana, 5,9 miliardi di euro, di cui il 62% già eseguiti. Abbiamo fatto il punto su tutto quello che sono i lavori che si stanno sviluppando da Firenze Sud fino al casello di Incisa, sulla costruzione del terrapieno, l'allargamento a tre corsie della strada e il prossimo sviluppo dei lavori con la galleria che affiancherà l'attuale galleria di San Donato. Durante l'incontro è stata anche concordata per settembre l'apertura della terza corsia del tratto Barberino-Mugello-Firenze-Nordo sulla 1. Aspi ha informato la regione di aver inviato al MIT il progetto esecutivo per la carreggiata a tre corsie sulla 1 in Cisa Valdarno. A marzo invece sarà ultimata la viabilità di accesso dello svincolo di Scandici nella tratta Firenze Sud della 1.